Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Questa mattina i carabinieri sono dovuti intervenire intorno alle 4 a Cortona per una lite in famiglia. La richiesta è arrivata da una donna in fase di separazione con il proprio ex marito ancora convivente nei confronti del quale è scattata una denuncia per atti persecutori ai militari. La donna ha riferito di essere stata picchiata in seguito ad una discussione all'arrivo delle forze dell'ordine. Il marito si era già allontanato. La vittima dell'aggressione avrebbe detto anche che il suo ex marito era dedito allo spaccio e che presumibilmente si era allontanato dall'abitazione portando con sé anche della sostanza stupefacente. I carabinieri in casa hanno infatti ritrovato e sequestrato una busta di cellofan contenente 40 grammi di hashish. Un altro episodio, questa volta in Via Romana. Lo hanno visto mentre camminava proprio scalzo lungo la strada centrale di Arezzo con un braccio ingessato. Sembrava confuso e urlava. Hanno raccontato alcuni testimoni e così gli avventori di un bar in zona San Marco hanno avvisato le forze dell'ordine. Ma una volta arrivati i carabinieri, l'uomo, un 34enne di Castiglion Fiorentino, ha dato in escandescenze prendendosela anche con i carabinieri. Il violento episodio è accaduto nella giornata di ieri. L'uomo è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Questa mattina si è già tenuta l'udienza di convalida dell'arresto. L'uomo è stato affidato alle pure dei sanitari. Un episodio invece è accaduto all'interno di un convoglio di un treno che stava transitando all'altezza di Camucia. Un uomo si stava masturbando di fronte a delle ragazzine minorenni. Sono state proprio quest'ultime a dare l'allarme al capotreno che ha ovviamente avvisato i carabinieri sul caso. Stanno appunto indagando le forze dell'ordine. L'uomo è stato identificato. Adesso invece parliamo dell'accoglienza a migranti. A Lampedusa sono ripresi gli sbarchi e nuovi arrivi potrebbero interessare anche la provincia di Arezzo. Ne abbiamo parlato proprio con il prefetto Chiara Sadotti. Chiunque abbia esperienza nel settore, appartenga al terzo settore, abbia la disponibilità di alloggi piuttosto che strutture adeguate all'accoglienza, può partecipare alla manifestazione di interesse. I fondi ci sono, sono quelli previsti dal capitolato naturalmente a livello nazionale. È indispensabile che ci sia qualcuno che presenti la propria candidatura. Questo sì, quindi vanno deserti più che altro perché non trovano magari la disponibilità di strutture per fornire l'accoglienza. Continua ad essere un tema caldo quello dell'accoglienza dei migranti. Anche alla luce dei continui sbarchi di questa estate abbiamo cercato di fare il punto della situazione con il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca. Al momento ad Arezzo accogliamo 659 migranti, in 62 CAS, i CAS ricordiamolo sono i centri di accoglienza straordinari gestiti dalla prefettura e una distribuzione sul territorio di 17 comuni. Quindi sui nostri 36, 17 hanno uno o più CAS. Continuano però gli arrivi, sono stati tanti gli appelli ma anche l'allarme lanciato dai primi cittadini, un appello dal Vescovo alle sue parrocchie per l'accoglienza. Cosa ci sarebbe da fare? Anche lei aveva lanciato un appello ai primi cittadini. Sì, io ho avuto due incontri con i sindaci, questo già in luglio e in agosto. Chiaramente la necessità è quella di reperire posti in accoglienza perché gli arrivi sono, come sotto gli occhi di tutti, quotidiani, gli sbarchi sono quotidiani e quindi è indispensabile reperire le sistemazioni appunto per fornire accoglienza alle persone che arrivano. Ad oggi ci sono spazi a disposizione però insomma potrebbero non esserci più il rischio. È quello delle tende, una soluzione che lei ha sempre evitato? Sì, è una soluzione che non praticherò se non costretta. Per questo devo dire, approfitto di questa occasione per ringraziare innanzitutto gli amministratori locali perché fin dal primo momento hanno dimostrato una grande sensibilità, una grande disponibilità perché è chiaro che il nostro interesse è un interesse comune e dobbiamo fornire assistenza e accoglienza alle persone che scappano da paesi con milioni di difficoltà ma dobbiamo farlo anche con una distribuzione capillare sul territorio perché soltanto in questo modo, quindi pochi posti per ogni comune riusciamo a fornire un'accoglienza che non diventa un peso per nessuno. Sorpresi con la refurtiva in auto, 200 litri di carburante stipato nell'auto per questo due persone sono state arrestate, avevano precedenti per furto è accaduto nella serata di sabato quando i carabinieri di Cortona hanno fermato i due a bordo di un'auto a Castiglion Fiorentino. All'interno del bagaglio è stato trovato appunto il carburante suddiviso in tre damigiani, il colpo era stato messo a segno poco prima proprio a Foiano della Chiana ai danni di un veicolo in sosta e di una macchina agricola i due sono stati come dicevamo de-arrestati. Un incidente si è invece verificato questa mattina ad Olmo dove un uomo di 58 anni è caduto mentre era alla guida della sua moto è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza per essere poi trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo sul posto anche la polizia municipale. E allora abbiamo aperto il nostro telegiornale proprio parlando di un'aggressione subita da una donna da parte dell'ex marito ancora convivente. Oggi ad Arezzo l'annuncio di uno sportello che sarà aperto a breve proprio di assistenza e recupero per gli uomini violenti. La lotta alla mancanza di rispetto nei confronti delle donne si gioca su due piani uno repressivo che deve esserci ma uno anche culturale che non può essere da meno. La sfida è quella di affrontare il problema alla radice ossia su chi la violenza la compiuta educando e rieducando. Nasce così ad Arezzo lo sportello Arum assistenza e recupero uomini maltrattanti. Nasce da una proposta che ci ha fatto il centro italiano femminile che si è messa a disposizione di formare degli operatori e poi successivamente di aprire questo sportello che è figlio della legge Cartabia e quindi nella convinzione che ovviamente chi si macchia di un reato che ha a che fare con il poco rispetto nei confronti delle donne che potrebbe essere anche un preludio di atteggiamenti ancora più aggressivi ha a che fare con una cultura di ignoranza che va combattuta. Oggi è chiaro che il tema del femminicidio che è l'estrema esperienza ma che non è meno grave di altri ma soprattutto che sta dentro un percorso di poco rispetto si batte con la cultura. Allora questa è una scelta insieme all'assessore Carlettini di fare di questa città una città dove anche l'aspetto strettamente culturale che fa parte del pacchetto normativo venga rispettato. Tutto avverrà al polo dell'economia immateriale in via Pellicceria che si sta qualificando come un luogo dove l'immateriale che ha a che fare con i diritti, con la cultura, con tutto quello che è legato alle persone e alla loro crescita si sviluppa. Il progetto prevede l'apertura di uno sportello di consulenza, ascolto, assistenza e sostegno psicologico per uomini responsabili di reati o fatti commessi a danno delle donne o delle categorie vulnerabili. Si parla di reati minori un po' come la giustizia riparativa legata al codice della strada siamo di fronte a quei reati che in qualche modo hanno a che fare con una deficienza culturale quindi non sono reati che si sono iscritti in atteggiamenti di violenza specifica ma pure questi sono considerati reati sentinella. Sarà il Tribunale ad inviare gli uomini allo sportello che offrirà servizi di prima consulenza e prima accoglienza, colloqui individuali di valutazione per una prima rilevazione della violenza e per la valutazione del rischio. A questo seguiranno una serie di incontri che avranno per oggetto l'analisi di tematiche predeterminate finalizzate ad aumentare il livello di consapevolezza dei propri comportamenti. Alla fine i partecipanti saranno invitati a continuare un percorso successivo sempre di gruppo ma più libero mantenendo comunque il focus sulla violenza. Il fatto di avere questo servizio su Arezzo permette di non avere scuse e soprattutto di avere un'opportunità nel territorio. Saranno i detenuti della casa circondariale di Arezzo ad effettuare i lavori di pubblica utilità. La casa di riposo Fossombroni, lo storico istituto, ha infatti rinnovato la convenzione con il carcere di Arezzo e così prosegue il progetto di carattere rieducativo che ha trovato concretezza nell'ospitalità di un detenuto che viene coinvolto in numerose mansioni all'interno di quella che per tutti gli aretini è la Casa Pia. Gli interventi interessano la manutenzione, la valorizzazione e la pulizia di diversi ambienti dell'istituto e prevedono anche il coinvolgimento di alcuni ospiti proprio per andare incontro ad una esperienza di inclusione. Torna via Romana in festa. L'edizione per questo settembre 2023 è stata presentata proprio questa mattina. Ormai questa cosa è diventata abbastanza conosciuta, la gente affluisce in grande quantità, c'è una grande sinergia fra le attività del luogo, i residenti e poi una buona parte della città che si riversa in questa zona. Anche l'anno scorso è stata veramente una grande festa, noi siamo contenti di poter valorizzare anche delle zone più periferiche che non sempre il centro storico. Musica, balli, aperitivi e cene all'aperto, grigliate strada ed ovviamente shopping con i negozi aperti sino alla mezzanotte. Torna così via Romana in festa giunta alla sua tredicesima edizione. Sabato 9 dalle 18 alle 24 via Romana come sempre diventerà una zona pedonale in maniera anomala visto che è comunque un'arteria importante anche per le auto per arrivare ad Arezzo. È una zona ricchissima di attività commerciali e artigianali, ancora molto vive, vivaci, solide che ogni giorno animano questa strada. Sabato è la loro festa. Protagoniste dell'evento le attività della feria d'ingresso alla città. Per i commercianti queste iniziative sono importanti perché si fa conoscere le vetrine quindi la cosa che spesso nelle zone dove non sono centrali quello che è importante è farsi conoscere e riportare gente anche che magari non è mai venuta in quelle zone quindi queste manifestazioni sono importanti per portare gente nuova. Un'iniziativa diretta a valorizzare le nostre periferie a dare una spinta anche a un richiamo di persone per rivitalizzare questi luoghi che sono importanti perché sono i nostri luoghi di accesso alla città ci vivono tante persone e anche gli esercizi di vicinato danno come dire un contributo proprio in questa direzione di mantenere vivo un tessuto sociale che in questo momento anche dal punto di vista del commercio ne ha fortemente bisogno. La nostra banca è molto legata al territorio dove svolge la propria attività professionale e buona parte dei nostri utili vengono poi distribuiti nel territorio di riferimento nelle istituzioni territoriali proprio per organizzare queste attività e anche altre iniziative che portano sicuramente a una crescita del bene comune. Sei le scuole di ballo che scenderanno in strada, DJ set ma anche scuola di circo per i più piccoli ed esibizione delle ginnaste della società sportiva Falciai. Il Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo è pronto a lanciare una nuova sfida all'insegna del gioco e della storia al suo pubblico. Due le date da segnare nel calendario il 9 e il 14 di settembre in cui il museo aprirà le sue porte per trasportarvi nella nuova avventura ovvero Escape Museum Mumec Edition, un gioco di squadra adrenalinico all'insegna proprio della storia e degli enigmi da risolvere che porteranno i partecipanti a vivere davvero un'esperienza unica ed eccitante. E adesso ci spostiamo invece a Foiano della Chiana, dunque in Val di Chiana perché vi parliamo di un incontro che è servito a raccontare l'ultima opera di Luca Signorelli custodita nella collegiata. È una pala d'altare l'ultima perché abbiamo visto le datazioni che altre sono state iniziate prima o comunque ci hanno delle altre incongruenze. È una pala bellissima con l'incoronazione della Vergine veramente eccezionale fatta una parte da Signorelli e una parte chiaramente dalla scuola. L'incoronazione della Vergine è l'ultimo quadro dipinto da Luca Signorelli custodito nella collegiata dei Santi Leonardo e Martino a Foiano. Questa pittura è importante per vedere appunto la vecchiaia di Signorelli perché aveva 70 anni e quindi è un'opera che ancora è dignitosa e che ha una parte eccezionale con i volti della Madonna e i volti degli angeli ha degli strumenti musicali che già precorrono i tempi come questo violino di legno. Attorno all'opera nel borgo della Val di Chiana un momento di riflessione e dialogo per raccontare il grande maestro cortonese in occasione dei 500 anni dalla morte il rapporto anche con l'arte e l'opera della famiglia della Robbia che tante testimonianze ha lasciato proprio a Foiano. Abbiamo la fortuna di avere tantissime opere di importantissimi pittori e scultori italiani del Rinascimento quindi abbiamo il Vasari, abbiamo il Pomarancio e abbiamo anche il maestro Luca Signorelli e l'ultima opera di Luca Signorelli è proprio qua nella nostra collegiata. Un'iniziativa che rientra nel ricco programma collaterale alla mostra a Norobbiano. Abbiamo progettato questa mostra da molto tempo, poi con il Covid ci siamo fermati l'abbiamo riproposta nel 2023, è stato un successo la mostra sui della Robbia che neanche noi ci aspettavamo in questo modo tanto che abbiamo anche prolungato la mostra che doveva finire il 30 settembre invece l'abbiamo prolungata fino al 31 dicembre quindi tantissimi visitatori, tante persone da fuori, sia ovviamente da fuori la nostra provincia che addirittura da fuori Italia e quindi è stato un bellissimo biglietto da visita. Nell'occasione è stato anche esposto un documento unico la ricevuta che lo stesso Signorelli fece alla Chiesa per la realizzazione del suo ultimo quadro dipinto. Per 90 Ducati dice che è soddisfatto sia di come è venuto il quadro sia della trattativa che ha fatto allora con la Curia. Rimaniamo in Valdichiana perché dal 7 al 10 di settembre torna a Cortona Corton Art, l'appuntamento che animerà i giardini del parterre con artisti di strada e spettacoli di giocoleria, cabaret e magia. Corton Art ospiterà anche un'area food and drink un'avventura culinaria con cui scoprire i sapori autentici italiani. Presentata questa mattina la terza edizione di Marcenando l'arte camminando è il progetto volto a dare vita ad una galleria d'arte a cielo aperto diffusa fra i vicoli e le campagne del borgo di Marcena dunque uno dei primi paesi che si incontra andando in Casentino. L'appuntamento in programma per domenica 17 settembre proporrà un'intera giornata di iniziative per tutte le età in cui l'arte tornerà ad essere proposta proprio come strumento per vivere esperienze di scoperta del nostro territorio. Ancora una tradizione del territorio aretino ci spostiamo questa volta a Montevarchi per il gioco del pozzo. La Mezzina, il premio del gioco del pozzo di Montevarchi è andata quest'anno a Santa Maria il quartiere che si è giudicato alla finale battendo sul filo di lana i contendenti di San Lorenzo. La giornata è stata assegnata anche dalla rievocazione storica della consegna della reliquia del Sacro Latte con la sfilata in abiti tradizionali. Anche quest'anno è stato così un weekend da tutto esaurito nella città valdarnese per il perdono invasa da centinaia di persone clou del fine settimana come sempre il gioco del pozzo. Presente quest'anno anche Wikipedro il noto youtuber che ha girato per le strade della città parlando del perdono, della storia e delle curiosità cittadine come sempre con lo stile che lo contraddistingue. Si racconta, leggenda narra, che durante il Medioevo nei mesi di siccità bisognava stabilire chi dei quattro quartieri, dei quattro gonfaloni avesse la priorità ad attingere al pozzo cittadino. Per farla più semplice chi vince il gioco beveva per primo. E infatti qual è il premio per la squadra che vince? La Mezzina, un piccolo recipiente di rame che qualche giorno prima della partita viene esposto al museo di città. La vera storia del gioco del pozzo ci rimanda sempre al Medioevo quando il conte Guido Guerra decise di donare la città di Montevarchi, la reliquia del Sacro Latte ancora oggi conservata all'interno della collegiata di San Lorenzo. Siamo nella settimana di perdono, è bene ricordarlo senti il lavoro di musichine, qui si canta, si balla c'è le campane che sonano, si mangia, si beve. Ci sono addirittura dei posti dove puoi pagare con la vecchia moneta di Montevarchi, il Varco praticamente te tu vai nelle bancarine, tu gli dà l'euro loro ti ridanno il Varco e te tu vai a pagare con quelli e siamo allo sport, al Palaestra Lamen Basketball Club Servizi ha ospitato l'Arezzo Calcio Femminile in una serata di sport davvero originale. Siamo veramente felici di questa visita perché penso che le nostre due società sono senza peccare di presunzione fra le più importanti serie della città. Massimo, grazie. Grazie a te. Questo è il nostro che gli ha detto. Ha rappresentato per noi il traguardo dove l'anno successivo avete avuto anche voi questa bella opportunità quindi anche i complimenti che valgono con la stessa rilevanza. Stessi colori, stessa passione, stessa città e adesso anche la stessa categoria, la Serie B un campionato prestigioso che entrambe le formazioni a retine si preparano ad affrontare. La SBA lo ha conquistato nella passata stagione vincendo a playoff la Serie contro il Prato mentre l'Arezzo Calcio Femminile lo ha consolidato lo scorso anno dopo l'indimenticabile promozione delle Imbattibili due squadre che portano in alto il nome di Arezzo in giro per l'Italia e che si sono incontrate al Palasportestra Mario D'Agata Secondo me è una bellissima iniziativa che ovviamente al momento delle ripartenze stempera un po' anche l'ansia che tutti i ragazzi hanno tutti i giocatori hanno sono queste piccole cose che comunque per noi sono anche grandi perché ritengo che questa iniziativa che è nata da un'idea dell'Arezzo Calcio Femminile ritengo che sia importante anche per sottolineare che ad Arezzo ci sono realtà importanti che fanno le cose con serietà e guarda caso la serietà poi paga quindi il fatto di avere questa B in comune è molto bello è sicuramente un motivo per conoscersi meglio come squadre ma anche è un motivo motivazionale proprio perché vediamo come si stanno divertendo e questo darà sicuramente forza in una fase iniziale di campionato non così semplice perché la serie B è sicuramente una categoria molto importante poi se ci vogliamo migliorare è ancora più importante ovviamente è stata anche l'occasione per fare qualche tiro a canestro tutti insieme ed infine parliamo di tennis perché il tennis giotto ha avviato il countdown per il debutto in serie A2 la federazione ha reso noti i calendari del secondo e più importante campionato nazionale maschile a squadre che riunirà 28 circoli in 4 gironi e che prenderà il via domenica 1 ottobre sviluppandosi poi attraverso 7 turni fino a domenica 19 novembre ne ho promosso in A2 il tennis giotto vivrà il proprio esordio a Roma sui campi della ferratella poi la prima gara in casa è prevista per domenica 8 ottobre contro il tennis club Genova 1893 è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione e arrivederci